E cos'è la vertebroplastica percutanea? La vertebroplastica percutanea è un trattamento mini-invasivo, il cui principio è molto semplice. Si tratta di inserire uno o due aghi all'interno di un corpo vertebrale e attraverso questi aghi di iniettare all'interno del corpo vertebrale un biomateriale che è generalmente una resina acrilica. Quali sono le indicazioni? Le indicazioni della vertebroplastica sono le fratture vertebrali osteoporotiche, le fratture vertebrali patologiche neoplastiche e gli angiomi vertebrali. Quali sono le controindicazioni? La principale indicazione della vertebroplastica è un dolore racchideo importante che non risponde alla terapia medica conservativa. Quindi la principale controindicazione della vertebroplastica è un dolore che sia poco rilevante e che sia in miglioramento con la terapia conservativa. Altre controindicazioni sono costituite da una coagulopatia che non sia correggibile, dalla presenza di una sintomatologia radicolare preminente rispetto alla sintomatologia dolorosa racchidea e alla presenza di compressione del midollo osseo o delle radici della cauda equina. Quali sono i vantaggi e i risultati di questa tecnica chirurgica? I risultati riportati in letteratura e quelli della mia esperienza sono molto incoraggianti, molto buoni. Nelle fratture vertebrali osteoporotiche si raggiungono dei risultati di un 70-90% di controllo della sintomatologia dolorosa e 70-80% di stabilizzazione della frattura. Mentre nella patologia neoplastica i risultati sono leggermente inferiori. Il vantaggio della vertebroplastica rispetto alla terapia conservativa è che il risultato sia sul dolore che sulla stabilizzazione è praticamente immediato. Ovvero il paziente già dopo alcune ore avverte una sensibile riduzione della sintomatologia dolorosa e può di nuovo deambulare e alzarsi dal letto. Ci sono complicazioni? Le complicazioni sono possibili. La frequenza delle complicazioni è molto bassa. È riportata in letteratura una frequenza di complicanze intorno all'1-5%. Sono più frequenti le complicanze nella patologia neoplastica. Le principali complicazioni sono dovute alla fuoriuscita del cemento dall'ambito vertebrale e quindi alla possibilità di una embolia polmonare oppure di una compressione da parte del cemento del midollo spinale o delle radici. Altre complicazioni possibili sono quelle dovute al traumatismo durante l'inserzione del lago.